Ehi Dio, porco Dio, azzò! Madonna, sono questo, mi uccide! Stai sempre sparando! Approvvigionamento nemico! Devono ritorno! Bene ragazzi, prima di iniziare vi voglio dire che nella prima partita su Gustav Cannon la qualità video sarà molto scarsa perché ho preso questa partita appunto dal livestream di qualche giorno fa adesso non so di quando precisamente, quindi la qualità sarà inferiore ma ci tenevo comunque a metterne in un video perché era veramente una partita molto, ma molto bella quindi ragazzi io vi lascio al video, spero vi piaccia, lasciate un mi piace e ci becchiamo alla prossima, bella! ho fatto il 9, lo riso io voglio fare una cobertura, questo gioco penso io a farlo che cosa fa questo? no 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 mi tornavo Blackfire in 92 2k17 sopra il cannone, smontano mamma ha detto che la casa del horro di bomba mamma ha detto qui la casa del cittadino mamma ha detto qui la casa del cittadino è stato che ci se ti stai assicurto in i voglia no 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 no, fatta io voglio vedere tutto il terrorismo basta, nazz! come io non lo sbaglio ma ci ho fatto ilравляo ma ci ho fatto il ciclo che si sta il pondo spongo, in elvrici vai ma devi svuuppare ah non c'è nessuno dai vai hai già fatto basta ti sgazzo non esce a pippa controllo spionaggio pronto neutralizziamo gli aerei spia nemici non c'è nessuno diciassette 3 oh oddio buono disognizione concluso basta lui era un po' coglioni lì quanti sono ma io credo non prendi prima quell'altro che stava davanti a me no uno dietro lui dietro dietro oddio no che cosa sto facendo oh oddio oh yeah no ecco oh no bella non si vede che cosa sto facendo non c'è spuglio molto buono oh asci quattro feed poi ne ho fatto tripla posto c'è anche la play of the game spero poi se non ce la urla e poi vieni eccola lì non mi ha dato tripla non so perché a livello 30 ehi dio rocco diazo non sono questo mi uccide stai sempre sparando approfiggionamento nemico devono ricordarsi che cosa sto facendo che cosa sto facendo che cosa sto facendo Grazie a tutti.